Per le regionali io mi aspetto che Enrico Rossi conduca il governatore, conduca a un finale di legislatura più produttivo. Cioè finora ha fatto poco? Ma sulle scelte fondamentali a me pare che ancora non ci sia neppure tutte le certezze. Guarda c'è un tema che qui è divisivo, che è quello dell'aeroporto. Io sono su una posizione che probabilmente non è quella della maggioranza, né degli amici che sono presenti, né dei pratesi. Io non sono ostile all'aeroporto di Peretola. Io riconosco le ragioni di chi sostiene una tesi diversa, il potenziamento di Pisa, il collegamento con Firenze. La mia preoccupazione però è un'altra, che del dibattito fra il nuovo Peretola e l'ampliamento di Pisa ci rimanga solo il dibattito. E che noi finiamo la legislatura con una straordinaria discussione, ma senza che la Toscana abbia nessuna infrastruttura nuova che aiuti il suo processo di sviluppo. Questo è il mio terrore. Così come sul piano dei rifiuti. Certo, io lo so che la costruzione degli impianti è sempre un processo difficile, ma noi abbiamo fatto un patto e ciascuno fa la sua parte. Ma non è che quando uno, dopo aver incassato il lavoro degli altri, arriva a dover fare la parte difficile del suo lavoro, e poi lo dice a proposito, sai che c'è, io non lo faccio più, perché questo crea un problema vero. E quindi io mi aspetto che Rossi impieghi meno tempo nelle riunioni con Bobo Craxi per la rinascita del socialismo, vedo ora l'appello, e ne impieghi di più nel rendere questo finale di legislatura più produttivo di risultati, perché abbiamo bisogno di, come ti dicevo, di risposte concrete di governo. Ma aspetto per esempio che si faccia sul tema del credito un lavoro importante che si può fare per elaborare una risposta. Ma aspetto sulla sanità, che alcune delle questioni che Stefania dice, e sono contento che sia qui, abbiano poi la forza di essere tradotte nella giunta in progetti concreti. Il ragionamento per eliminare le liste d'attesa, che non per forza passa da soluzioni draconiane e di una sinistra ideologica, è un ragionamento importante. Il riconoscimento che il terzo settore e il volontariato sono fondamentali per il funzionamento del sistema e non sono un pericoloso cedimento a una logica privata, ma il riconoscimento di un principio di sussidiarietà. Mi aspetto che in questi mesi, in quest'ultimo tratto, in questa seconda parte della legislatura, diventino scelte concrete. Perché noi abbiamo bisogno di fondare la nostra ambizione di essere al governo della Toscana su scelte di governo concrete per lo sviluppo e la qualità della vita. Ho risposto? Sì, sì.